E salve a tutti ragazzoli, siamo tornati su un nuovo episodio di Carmine 551 E quest'oggi dove vi porto? Dove vi riporto? Su GTA 3 Come ben vi ricordate, di sicuro vi ricordate perché è uno dei miei video precedenti proprio fatto shue shue proprio Abbiamo provato a fare una missione che ci sta dando un po' fastidio fino ad ora, ovvero bombarda la base Se voi avete visto il video precedente a questo avrete notato la sorpresina finale che mi ha fatto un po' sclerare Che poi io comunque ve la voglio tenere ancora segreta, se non l'avete visto vi supplico di andarla a vedere subito Subito proprio veloce, questo io non lo voglio vedere perché può essere che sarà un fallimento Io vado a vedere quello prima e vi raccomando seguite anche quelle precedenti Che abbiamo fatto Sempre di GTA 3, Just Case e roba varie Siamo qui Posto che voi ricorderete molto bene Eh sì che me lo ricordo io E cercheremo un po' di fare un po' di pulizia qua Allora cominciamo Io darei inizio alle danze Voi che dite? Sì Facciamo vedere come si A posto Penso che non ci sia più nessuno Per sicurezza io metto lo sniper E controlliamo questo tizio dove va Stiamo a vedere Attenzione! Sta scappando! Sta esplodendo tutto! Oddio Che è la Concordia La Concordia che esplode Questi titanic Titanici O titanic Ehmissione compiuta! Uh! 150.000 dollaroni Che andiamo a mettere in cassa forte Signori Signori miei Signori della corte Abbiamo finalmente fatto questa missione Che ci stava veramente scocciando Adesso andiamo a vedere Chi sarà il prossimo Ah! Salvatore 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 Lupappone Se questo si toglie magari Non è che io non so guidare Io so guidare benissimo Però la gente che Non ci fate caso Hai con piccoli contromano Che faccio Poi Se ci fate caso Ogni volta che devo girare In qualche ingrocio Qualche cosa Spunta sempre la famosa macchina Che deve girare Dove io sto sorpassando Che è stata? Una cosa fatta apposta? Fatemelo sapere nei commenti Vi lascio a voi La patata bollente Ultime richieste Ah! Siamo quasi per finire il lavoretto Allora Ah! Grazie Ho un ultimo lavoro per te Prima di celebrare C'è una macchina Vicino al club Luigi All'interno è schizzato Cervello dappertutto Abbiamo dovuto far ragionare un tipo E la cosa si è rivelata Un po' Ehm Sporca Portala al rottamatore Prima che la trovino i poliziotti Va bene Sarà fatto Dottore Signore Greggio Salvatore Come vuole essere chiamato Questa macchina Un po' rotta Giusto un po' Andiamo a prendere questa qua Dei scagnozzi Di Salvatore Spero che ci sia il pieno Se non rimaniamo a piedi No veramente sono contento Di essere riuscito A fare questa missione Perché veramente Mi stava dando un po' fastidio Era un bel po' Che non lo riuscivo a fare Perché o sbagliavo mira O colpivo il mio amico E tante altre cose Sono contento Almeno posso andare avanti Con la serie Chi è Sono Maria L'auto è una trappola Cosa Incontriamoci alla rampa A sud del ponte Callahan Ah Incredibile Era una trappola la macchina Non ci credo Salvatore ci voleva uccidere a loro Com'è Non sto capendo niente qua Perché mai Salvatore Mi dovrebbe uccidere Cioè Non l'ho capito Sta cosa Non ha senso Credo che sia qua Non credo che sia sopra Raga Sono morta Ma non è possibile Ma Dio Cristo Dio Santo Eh raga Ho dovuto fare un piccolo taglio Qui non mi dite niente Perché praticamente L'avrete notato anche voi Sono praticamente caduto in acqua Quando stavo arrivando Praticamente al punto Di incontro Con la figlia Di Salvatore Che incredibilmente Salvatore si è rivelato Un traditore Per rispiegarvi tutto Adesso noi Dovevamo Noi Come missione Dovevamo andare a prendere Questa macchina Che era schizzato il cervello L'anima della mortacci sua E tutto il resto Vedete Qui in questo momento Spunterà un messaggio Di Maria Che ci starà Dicendo Che l'auto È una trappola Quindi sarebbe che C'è una bomba dentro E dobbiamo crepare O O tant'altro Adesso noi dobbiamo andare Al molo Dove io sono arrivato E ci sono anche caduto Nel molo Comunque Non ci fate caso Succede Purtroppo succede Non sapevo Che c'era Questa curva così Allora Facendo il replay Ho fatto Bene Sono arrivato E sono caduto Sulla destra Cioè in acqua Vabbè Comunque Vediamo un po' Salvatore Penso che Per cui ti stavo Per conoscere il segnale Al cartello Questo va troppo veloce Non capisco Chi è sto cinese Come sei brutto Mamma mia Ecco Sì Infatti Dopo che mi hai fatto Fa' sta cosa È meglio scappare Perché già che Mi volevano tendere Una trappola Non è proprio cosa Che è sta roba Refer Dove si va? Penso di qua Ah Praticamente Penso che Adesso Sbloccheremo Anche l'altra parte Della città E onestamente La cosa mi piace Mi piace tanto Voi non lo sapete Ma Molto probabilmente Vi porterò Dei video Di GTA San Andreas Come praticamente GTA 3 Così Così bene Episodi Belli tranquilli E tutto Però Voglio prima Finire questo qua Perché È una serie Che è un posto Portando per troppo tempo Fino ad ora E quindi Sono intenzionato A farla Quanto più presto possibile Asuka e io Dobbiamo parlarti Perché Ti serve Che farà A casa tuo Ti torna qui Nel mio appartamento Quando sei pronto Così possiamo Chiacchierare Un po' Ai suoi ordini Come ti chiamano Non lo so neanche Come si chiama Vabbè Missione Compiuta Molto bene Questa sembra Una bella macchinetta La Yakuza Sembra Nam Banshee Però su GTA San Andreas Chi è Oh Ok Ah Ah Questa praticamente Era la news Che Ci sta dicendo Che il traffico Diventerà Di nuovo Scorrevole Sul ponte Eccolo là Infatti Potete vedere Che adesso Il ponte È sano Mentre prima Quando siamo passati Con la barca Era ancora rotto Praticamente Lavori in corso Proprio Velocissimi Proprio Vabbè Credibilità Zero Sayonara Salvatore Ah Ah E penso che Già il nome Di questa missione Parla chiaro Va bene Vediamo Mettiamo le carte In tavola Hai ragione Mettiamo le carte In tavola Sì Sì Circa tre ore Sì E uno che ti si può fare Praticamente Va bene Comunque accetto La missione Non so perché Tu stavi Qua dentro Raggiungi Distretto a luci rosse E aspetta Che Salvatore Esce dal locale Attorno alle 3.30 Noi sono le 1.16 E poi Praticamente Ho due minuti Altro che Tra due ore Tra due minuti Dovrei farcela In tempo In tempo Perché poi Ho già pronta Un'idea Per distruggere Salvatore Sarà qualcosa Di veramente Esplosivo Come lui Gli piace Gli piacerà il mio Il mio Trappolone Che gli ho preparato Che era scritto Non sono neanche riuscito A leggere Come vuoi pretendere Che in un millisecondo Riesca a leggere Questa cosa Grand Theft Auto Non vuoi Non vuoi pretendere Che io lo legga In così poco tempo Grand Theft Auto Comunque Siamo arrivati Al club di Luigi No no Eh sì Mi scusi Ma lei non si toglie Davanti Se lei deve passare Passi pure Ok Adesso Quello che voglio fare Io Perché sicuramente Salvatore Andrà verso casa sua Da quel che mi ricordo Adesso Ne cosa faccia Guns Eh mi servono Raga In questo caso Mi servono Non sono Uno che i trucchetti Li usa sempre Ma in questo caso Li devo usare Perché Come vedete Manco Manco Il giubbettino Mi sono messo Quindi Vi tengo Tutto sotto controllo Non vi preoccupate Giustamente Ci vuole Raga Ci vuole Sempre Non potete Dirmi di no Raga È tempo Raga Sta uscendo Salvatore Sta uscendo Salvatore E noi a Salvatore Gli facciamo la festa Qual è il problema C'è Vabbè C'è Ho proprio Una sorpresa Esplosiva Per te Salvatore Tu devi solo Uscire Da questo Club Di Luigi Ti faccio Uscire io Ti faccio Salvatore Sta lasciando Adesso Il Club Luigi E vai Vai Esci Esci Che ci penso Io a te Questa macchina Perché Questo semaforo Deve essere rosso Proprio Ora che si mettono Le macchine Davanti Questo Non riesco A capire Passate Passate Dovete Passare No Sto furgoncino No No Figlia Ragà Che è successo Scomparsi Si Ce l'abbiamo Fatta Ragà Sayonara Salvatore Ma Sayonara Proprio Pesante Però Bene Adesso Non dobbiamo Fare altro Che andare A salvare Sayonara Salvatore Sono contentissimo Sai Fatta Proprio La fine Che si Meritava Questo Salvatore Tu Non ti sei Voluto Fidare Di me Hai fatto Molto Male Alla fine Io ti stavo Facendo Molti Piaceri E Purtroppo È arrivata La tua Fine Ma Te la Sei Voluta Tu Te la Sei cercata Tu Se tu Facevi il bravo Ti potevo pure Risparmiare Però Non è stato Così Ah Andiamo anche A svelare Una nostra Nuova casa Eh Che giustamente Abbiamo fatto Quella Abbiamo fatto Quell'altra Ma non è che Siamo andati a Vedere La nostra Casa Mi dovresti fare Una bella Lettera Dopo questa Botta Signor Limousine Comunque Ah Questo è il garage E la casa Dov'è qua Non mi ricordo No Keep out Altro che casa Questo è di caccia di casa Credo che la casa Ah Ecco Questo è un ascensore La mia casa Com'è Ah Molto credibile La cosa Non posso dire di no Veramente molto credibile Comunque Abbiamo salvato Di conseguenza Per oggi Vi lascio Abbiamo fatto Ben due Tre missioni Mi pare Due forse Non mi ricordo Come preciso Però posso dire Che siamo andati avanti Finalmente Dopo un po' di tempo Lo ammetto Sono stato un po' di tempo Inattivo Ma non è che sono stato inattivo Ci sono stato Ma non ho registrato In questi giorni Penso di tornare Attivo Nel registrare Giochi Tutto quello che volete In questi giorni Cercherò anche di Provvedere a comprarmi Una webcam Per fare anche I video con Il video per esempio Che vi mostro La mia faccia Vi parlerò un po' Del mio canale Della mia vita E un po' di tutto Voi Naturalmente Continuate a seguirmi Anche Così Cioè Senza telecamera Io lo spero Perché penso che alla fine Vi faccio divertire Quando faccio i video Non è che Non è che Dici Questo che è proprio Palloso Non penso di essere Così Palloso E comunque Vi lascio Buon Halloween Non vi ho mangiato A 6 polpette Perché le polpettine Fanno male Allo stomachino Capì? Ciao a io Ciao a io